Non dobbiamo pensare troppo al futuro, il momento è adesso e dobbiamo pensare a quello che facciamo al momento. Non cominciamo a immaginare se pareggiano, se perdono, se noi facciamo quattro punti perché se no non andiamo lontano. Qui e ora, il momento è adesso, il momento è adesso, è il momento di spingere, di pedalare, di giocare come questa sera con intensità, con agonismo, chi stava in panchina, chi è entrato, chi ha giocato, chi ha dato tutto. Continuiamo su questa strada ma focalizzati verso il prossimo obiettivo che è l'Atalanta.